buongiorno saluti piazza tasso 25 dicembre buon natale buon natale a tutto il nostro pubblico di positrano news brogino saluta i nostri stori buon natale buon natale a tutti ci sono ci sono anch'io buon natale a tutti i nostri dalla redazione di positano news a tutti quanti sono attivi non mancano le biciclette che è un appuntamento tradizionale le troviamo un po in tutti i giorni di feste che provengono dall'agro perino la giornata è ventosa cioè questo tintinino degli alberelli accesi ieri sera si sono attattati ma la polizia principale è al lavoro i servizi pubblici stanno camminando abbiamo incrociato gli spazzini che fanno la guerra con questa foglia che perché il vento le tira le tira luce affittati per l'aggiornamento oggi abbiamo un concetto nella chiesa dell'annunciata curato da paolo scipilia nel programma natalizio capodanno quindi avremo modo di scambiare gli auguri quella chiesa dell'annunciata dietro l'ospedale per il concetto organizzato da paolo scipilia ecco le ciclistiche la foto di vito sotto l'albero